E' una comunità sconvolta quella di Botricello per quello che è accaduto, la morte di Salvatore Gidari ha colpito tutti e lo ha dimostrato la grande partecipazione che c'è stata al suo funerale, sono episodi che non dovrebbero mai accadere, ci auguriamo che in futuro certe cose possano non esistere, purtroppo ci sono altri episodi anche in tutta Italia simili a quelle di Salvatore e questo ci lascia sgomenti, ci auguriamo che tutti possano uscire da questa spirale di violenza e che si possa veramente risollevare con un po' più di umanità affrontare i problemi di ogni giorno.